Gioca, gioca, gioca! Grazie! Grande l'ampiezza! Ragazzi dai! Gioca, gioca! Sì, vado a fare bordo! Bravissimo! Grande Diego! Grande Diego! Forte! Si, su leg bombe! Poi su YouTube... Si, Nico! Bravissimo portiere! Bravo Nico! Carico Andre! Siamo in tre! Bravissimo! Grande Diego! Gioca! Gioca! Bravissimo! Gran palla! Diego! Diego! Bravo Lollo! Gioca! Tra lui è la nostra porta! Bravo! Ottimo! Carla c'è! C'è! Vado forte! Vado forte! Siamo a tre! Bravo Lollo! 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 Forse sì! Mister è la prossima che esce eh! Calma! Calma! Calma a terra e giochiamo! Bravo a calciare! Bravo! Buona ragazzi venite! Ok stop! Vediamo! Forte Ya! Forte Ya! Perché non vai? Inizio erklare! Sì 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 sì! Si mette lui entrante nome! Stiamo facendo attrarle dalla alla palla! Calma! Bravo a uscire dal traffico! Bravissimo! Muovite! Muovita! 2'3! Buona scoposta! Va la mano controllersa? Corella Camilla может per Gorinnie! bravo Giacomo siamo andati sulla respinta finalmente se non stiamo attenti lo prendiamo sveglia bravi ragazzi